marmellata light di susine susine mature lavate una mela sbuccio la mela e la faccio a dadini direttamente nella pentola denocciolare le susine una ad una e aggiungerle nel tegame si spreme un limone aggiungete 100 grammi di zucchero oppure 20 gocce di dolcificante per cottura far prendere il bollore chiudere e cuocere 15 minuti acqua sul fuoco e immergere i barattoli che dovranno contenere la marmellata anche i coperchi lasciarli un paio di minuti poi scolarli e farli asciugare su un canovaccio pulito mini peamer e frullare alla consistenza desiderata frullare con il mini peamer alla consistenza desiderata vasetto sterilizzato imbuto sterilizzato tappo sterilizzato prendere con un cucchiaio bollente la marmellata e riempire il vasetto chiudere immediatamente e capovolgere anche l'ultimo barattolo è stato riempito e capovolto appena freddi si formerà il vuoto quindi sentirete il click del barattolo dopodiché lo potrete conservare qualche settimana il click e la prova che bontà leggermente asprina come deve essere è molto meglio di quella comprata non c'è il paragone